Il raddoppio delle linee bus tra Assisi e Gubbio disposto dalla Regione potrebbe diventare permanente se i flussi della fase operativa per il giubileo da marzo a novembre 2016 lo giustificheranno. Questo è il succo delle dichiarazioni dell'assessore regionale ai trasporti Giuseppe Chianella che sabato è intervenuto a Gubbio ad un incontro che ha visto presenti i rappresentanti del Partito Socialista Locale. Presente anche il consigliere regionale Rometti autore dell'interpellanza che chiedeva proprio questa novità. Da marzo dunque saranno attivi due collegamenti diurni sabato e domenica da Assisi a Gubbio e viceversa. Chianella incontrerà i sindaci di Gubbio e Assisi per verificare la possibilità di rendere permanente questo servizio anche se dovranno essere i numeri a rafforzare tale ipotesi. Questa ulteriore implementazione tra le due città è assolutamente importante perché ci siamo resi conto che è assentita e adesso ci incontreremo a breve, chiameremo i due sindaci di Assisi a Gubbio proprio per verificare anche con loro i problemi. Queste due coppie dovranno partire da marzo fino a ottobre. È chiaro che se i flussi che verranno poi registrati in questi 7-8 mesi saranno consistenti potremo ragionare per un collegamento continuo. Abbiamo sollevato la questione e d'altronde il nostro piano regionale di trasporti a cui ho lavorato fino all'approvazione di fatto prevede due obiettivi fondamentali. Il primo è uscire e migliorare i collegamenti esterni dell'Umbria e il secondo è quello di migliorare le relazioni fra le nostre città Umbre. E migliorare i rapporti e i collegamenti fra le nostre città quando parliamo di Assisi a Gubbio naturalmente questa affermazione assume un significato particolare anche per i rapporti che queste due città vogliono portare avanti, mi ricordo il protocollo. Quindi siamo partiti e poi con il collega assessore abbiamo approfondito la fattibilità con l'azienda, con Umbria Mobilità e quindi si parte subito adesso con questo nuovo servizio fine settimana. Poi vediamo anche in base alla risposta che ci sarà alla domanda da parte degli utenti poi vediamo anche se sarà necessario portarlo avanti in futuro. Ringraziamo soprattutto l'assessore Chianella Giuseppe Chianella che ha accettato questo discorso di inserire, di riprogrammare e di sperimentare almeno per 7-8 mesi questo discorso in modo tale speriamo che si possa ottenere la gestione totale e che rimanga definitivamente.